Sicità che mette in ginocchio l'agricoltura e i sindaci di Brendola e Sarego prorogano l'ordinanza già emessa che impone il divieto di irrigazione con attingimento dal fiumicello Brendola fino a prossima revoca. Tavolo tecnico con il consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, con la Polizia Provinciale, le associazioni di categoria del settore agricolo, dal quale emerge che la crisi idrica resta drammatica. E' emerso che il livello del fiumicello Brendola è preoccupante, nel senso che dopo 5 giorni di divieto di irrigazione il livello non è aumentato, anzi è quasi diminuito. Quindi abbiamo presposto un'altra ordinanza e eviteremo fino a un nuovo ordine di irrigazione del fiumicello Brendola. Questo perché il flusso minimo vitale non è garantito in questi giorni a seguito appunto della continua siccità. Non solo, questi 5 giorni di stop obbligato non hanno portato al risultato sperato. La falda stessa, dall'analisi fatta oggi, è calata di un altro mezzo metro. E quindi le risorgive e i pozzi che alimentano il fiumicello Brendola non stanno più alimentando in maniera considerevole il livello d'acqua. Il problema che si pone ora riguarda anche una questione di ordine igienico-sanitario e di salute pubblica, vista la quantità di pesce in sofferenza che popola il fiumicello e che potrebbe portare ad una moria di pesci da dover gestire. Grazie. Grazie. Grazie.